Eccola Gelbison in azione, il sinistro, il cross in area di rigore, tiro finale, pallone al centro dell'area di rigore, vicino al gol. Batte Crucitti dalla bandierina per la Cittanovese, pallone per Isabella, cross in area di rigore, colpo di testa di Viola e di Rete, Cittanovese che passa in vantaggio a Vallo della Lucania. Batte Gagliardi, punizione, l'interno destro viene ribattuto, la sfera torna di nuovo a Gagliardi, il piatto destro, pallone in area di rigore, l'attacco del Gelbison continua, cross al centro, pallone per guadagno, mezza rovesciata, sfera che però viene ribattuta da Isabella. Gelbison in azione, il sinistro in area di rigore, palla che termina fuori. Ancora la Cittanovese in azione sull'aterale di sinistro con Andreu, avanza Andreu, super un giocatore, il dribbling molto perfetto e preciso, Andreu guarda in area di rigore, piazza la palla, palla per Miceli, Miceli, il destro, palla ribattuta. Dalla bandierina la Cittanovese, il cross in area di rigore, devia il pallone. Maiorano sulla sfera, cerca l'ingresso in area di rigore, filtra molto bene, dribbling di Maiorano, pallone che viene. Ancora Isabella sul pallone, si lancia verso l'area di rigore, supera un giocatore col tacco, appoggio per Andreu, Andreu ci prova, vede la porta, pallone alto sulla traversa. Stancarone sul pallone, palla per De Foglio, De Foglio guarda sull'asse a centro campo, palla che viene fatta girare molto bene, la sfera poi giunge a Maiorano, ecco Maiorano sul pallone, Maiorano guarda in profondità, il tiro, pallone parato. Punizione per il Gelbison, il cross in area di rigore, Gagliardi, rete, il Gelbison, pareggio risultato, 1-1. Tiro, Gelbison vicino al raddoppio. Il lancio in area di rigore, Sparacello vicino al raddoppio. L'assist di testa per Andreu, colpo di testa finale, in pericolo il portiere D'Agostino, vicino al gol la Cittanovese. Punizione, Cittanovese vicino al gol, rispingono i riflessi del portiere D'Agostino. Punizione per la Cittanovese che ci prova di nuovo, cross a Zinfollino, vicino al raddoppio. Corner per il Gelbison, ci prova a raddoppiare il risultato. Vediamo come si definisce questa azione, il cross in area di rigore, la Cagnina per la Cittanovese salva il risultato. Ancora Sparacello, verso l'area di rigore, dribbla due giocatori, il destro finale, alto sulla traversa. Dalla bandierina il Gelbison, ci prova a raddoppiare il risultato, il cross in area di rigore, ribattuto. Ancora il Gelbison, cerca di piazzare la palla al centro, vediamo che affronta due giocatori, il sinistro palla per Mesina. Sparacello ed è il raddoppio, 2-1 a fuori del Gelbison.